Musica Stasera parleremo di energia, di clima, degli studi e delle applicazioni che si stanno facendo in materia. In questo caso questo spesso è quello che la tecnologia già sta offrendo, già è stata provata magari in laboratori, è pronta ad offrire per i soldi che usano inizialmente. Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.